Felice giornata, l'autunno è alle porte, il cammino lo abbiamo acceso, io e il mio compagno di viaggio Paolo Morbidoni, anzi colgo l'occasione per spiegare alcune cose. Lo chef Polito abbandona un po' la cucina internazionale e si dedica con Paolo Morbidoni al 100% Medi in Umbria creando questo unico e primo ristorante in Umbria, questo Sharing Restaurant. Questa parola grossa che può far paura, ma lo sharing è condivisione, condivisione di un obiettivo, condivisione di un piacere e soprattutto condivisione di amicizia perché in cucina se non c'è questa atmosfera nulla si può creare. Ebbene io e Paolo abbiamo creato Locanda del Capitano, tipico, parliamo del piccolo e delizioso borgo di Montone, questo connubio gastronomico che vede me logicamente sui fuochi e da quest'anno le mie mani, le mie mani e quelle della mia squadra e in cucina della mia brigata cucineremo il meglio, il meglio che l'Umbria possa offrire. Paolo Oste, famoso Oste, che odiugherà quello che io creerò dalla cucina, seguendo la sua grande cultura sugli oli e sui vini della nostra regione. Oggi sembra che l'autunno sia alle porte e di conseguenza inizieremo a cucinare qualcosa col tartufo bianco che l'amico Giuliano Martinelli mi ha appena portato. Vi farò assaggiare un uovo pochè con fonduta di raviggiolo e parmigiano, con tartufo bianco e caviale di laringa. La laringa perché? Perché il laringa e il baccalà anticamente erano gli unici elementi che potevano apportare sapidità nei piatti degli Umbri Adesso vi farò vedere un po' gli elementi che userò. Come vi ho detto, una piccola fonduta di parmigiano e raviggiolo. Il raviggiolo è la prima cagliata. Questo uovo l'abbiamo soltanto racchiuso in un sacchetto fatto opposto, è una carta che può cuocere ad alte temperature, dressato col tartufo bianco, un pochettino di pepe e sale, il caviale d'aringa e il nostro tartufo dell'altra valle del Tevere. Ecco, adesso l'acqua inizia a bollire. Adesso cucinerà questo uovo per solo 5 minuti. Allora, come promesso, iniziamo a comporre il nostro piatto. Andiamo ad adagiare sul nostro piatto questa crema, che non è una crema, è una fonduta di formaggi, molto delicata. Adesso io prego. Il nostro uovo pochett, come vedete, sembra quasi un abbraccio, un abbraccio dell'autunno. Andiamo a fare una piccola quenelle con il nostro caviale d'aringa, poi suo maestro, il tartufo bianco. Come vi dicevo, il nostro autunno è alle porte e i miei piatti variano con le sensazioni stagionali. Il tartufo, l'uovo, il caviale d'aringa. La mia prossima ricetta, non so quale sia, ma intanto saluto voi e per Ugiato Day.